ciao ragazzi faccio un video della colazione di alessandro sto riproducendo sullo schermo del computer quello che vedi in diretta io nel mio tablet alessandro si trova a scuola sono le 12 e 10 il che vuol dire che è passato un'ora e 25 dal momento della colazione quindi non è esattamente le due ore perché il target andrebbe controllato a due ore della colazione però adesso sto per uscire quindi il video ve lo faccio adesso una giornata incredibile perché il picco della colazione è stata al di sotto dei 100 quindi alessandro si trovava probabilmente alle 11 e eccolo quale alle 10 e 45 si trovava probabilmente tipo a 76 a scuola ha fatto colazione e il picco massimo è rimasto al di sotto dei 100 adesso non so esattamente quello che poteva essere tocco se appare appare qualche parte no probabilmente il picco sarà stato tipo 96 immagino 95 così e dopo di che la glicemia si è messa stabile si è messa dritta adesso è quasi un'ora che è dritta 84 il nostro target a due ore quindi a due ore è 100 quindi se a due ore arriva a 100 è perfettamente nel target negli ultimi quattro giorni è stato proprio incredibile perché a due ore dal dalla colazione si trovava esattamente a 100 o 98 o 101 102 però non più di due punti distanti rispetto al nostro target 100 quindi sono stati quattro delle giornate ultime giornate proprio incredibile la cosa incredibile che queste giornate io ho fatto un esperimento fatto un esperimento che da quello che mi aspettavo io mi avrebbe dovuto portare avere dei picchi altissimi non è successo non probabilmente non lo rifate perché probabilmente magari se uno beve l'estate poi invece dovrebbe dovrebbe fare dei picchi enormi a noi in questi giorni che stiamo facendo sta prova rimaniamo stupefatti infatti faccio il video anche per per promemoria somma della giornata della giornata perché la colazione ad esempio di oggi è stata due panini del mcdonald la colazione di oggi due panini del mcdonald e un estate l'estate l'ha preso a scuola alla macchinetta essere quelli zuccherati quelli da 20 caramini di carboidrati e i panini io sono andati a prendere io al al mac drive di quelli solo pane e carne quei panini piccoli che vengono messi anche nel happy meal due panini di quelli e il tè il tè in questi giorni che sto facendo la prova a mettere sta bevande veloce il tè e noi lo accreditiamo solamente la metà quindi il tè 20 carboidrati c'è scritto 20 carboidrati nella confezione del brick e dell'estate noi glielo accreditiamo solo 10 in maniera tale che non vada in ipo perché se tu ha una bevanda zuccherata non perché non si può bere mai perché scende da sola c'è già una parte che scende da sola ora io però ho voluto fare una prova qualche giorno fa che alessandro mi stava un po a tendere verso il bassetto tendeva verso lipo e quindi ho detto facciamo una cosa ti faccio bere qualcosa che ti dirà su e però ti accredito meno insulina perché se no dopo se no dopo e mi va in ipo allora ho provato a creditarla metà e quindi invece di 20 carboidrati di non calcolati 10 io nelle microinfusore gli ha fatto la correzione più 10 e era andata bene ho detto vabbè potrebbe essere anche che magari così ci si riesce io un altro periodo qualche giorno fa l'ho provato una volta mi è andata perfettamente a 100 quando mai deve tenere una prova precisamente nel target no qualche volta succede però beh in quel caso mi è successo allora dico mo ci voglio riprovare ci voglio riprovare rimane il fatto che alessandro è molto bene insulinizato quindi se noi avessimo fatto avessimo dato una bevanda ad alessandro quando ci aveva la basale con una basale bassa che eravamo con le penne in quel caso ci sarebbe schizzata 250 300 perché perché già ci saliva anche se non mangiava niente invece in questo caso non abbiamo delle basali che sono col microinfusore esattamente calibrati ora per ora alessandro non è non c'è nessuna infiammazione dovuta da iperglicemia perché quando c'è una glicemia alta comunque in ogni caso genere di infiammazione quando c'è un'infiammazione la curva del in cui si alza è più esagerata più impennata e per questo anche quando io dico quando abbiamo supplementato con l'omega 3 che noi comunque gli diamo l'omega 3 alessandro la mia sensazione che ho fatto dei video dove dico che la mia sensazione che le curve sono più morbide effettivamente anche quelle dovrebbero ridurre l'infiammazione e quindi aiutare ad avere impennate meno repentine e cali più morbidi anche in questo questo caso è assurdo perché la giornata di oggi assurdo vi voglio far vedere tanto ha fatto una nuova lettura 85 si è messo proprio dritto si è messo adesso manca solo mezz'ora al target delle due ore quindi non mi immagino nessuna sorpresa perché l'insulina ha fatto il soffetto massimo noi in particolare dopo le le 10 e mezza quasi non abbiamo più la basale perché lui non ha bisogno di basale dalle 10 e mezza in poi gli diamo 0,05 l'ora di basale quindi a questo punto le spinte che possono tirare verso il basso sono quasi nulla la basale estremamente bassa da già da già da un'ora è praticamente basta la basale la colazione l'ha fatta un'ora e mezza fa la colazione e quindi non mi immagino non mi aspetto che ci sia nessun tipo di cala in questo punto quindi non va bene anche se l'ho fatto prima però vi faccio vedere le statistiche sono impressionante perché se andiamo a vedere le statistiche di ieri queste sono di ieri che abbiamo fatto una colazione simile era pizza e poi ho fatto un video anche dedicato se lo volete andare a vedere anche ieri ieri c'era uno per la colazione per il pranzo dove ho fatto vedere come l'ho gestito e ieri ha fatto colazione con una bella pizza mi sembra un 60 grammi di pizza più o meno e è un è un è un'estate e la glicemia di ieri sono stati con la direzione standard 19 4 l'emoglobina stimata 5 e 96 per cento nel tempo nel time range la media di 93 quindi ieri pure una giornata incredibile oggi oggi sembra ancora più stupefacente perché oggi sta 100 per cento nel time range quindi le glicimi sono state sempre comprese tra 70 e 180 e con una deviazione standard di 10.2 devo dire onestamente non è mai capitato di fare più di mezza giornata con 10.2 magari qualche prima ora della notte 10.2 potrebbe capitare che magari guardava le 3 alle 10.2 ma arrivare a mezzogiorno con colazione fatta addirittura con una bevanda a zucchero veloce 10.2 è anche per noi che siamo abbastanza buone la stanza ha fatto più volte glicate da 5.3 però una cosa del genere ma onestamente mi rimarrà mi rimarrà difficile difficile da vedere una statistica con una deviazione standard minore di questa 86 tanto la glicemia vedi sta sta salendo 80 questo ancora no questa è l'altra lettura allora statistiche statistiche non andiamo a vedere le glicemie queste sono le ultime 24 ore se andiamo da mezzanotte ecco questa da mezzanotte adesso così ok papà sto finendo di registrare un video hai visto che è glicemia eh guarda 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 che glicemia ha mangiato vedi sto picco qua vedi questo picco lui qui ha mangiato che stava qui a 76 il il picco di 96 si è mangiato due vanine del mcdonald e un estate lo ha portato io adesso 70 grammi di carboidrati i 70 grammi perché per i mcdonaldi vengono calcolati i 30 grammi l'uno lì sul coso noi abbiamo potuto prendere le crocchette perché mcdonaldi non dice quanti carboidrati hanno le crocchette dice a porzione però non capisci nella scritta a porzione se intende 6 9 12 o altro ma dice ma come mai un telefono perché sta andando così questo periodo va dritto così saranno sarà che è arrivato il sole ha preso un po di vitamina D col sole saranno l'omega 3 saranno sì sto finendo il video sto finendo il video mi serve la telecamera sì sì adesso ti do la scatta finisco chiudo la live è sottocarica ma la batteria potrebbe essere vecchia la batteria per me è importante va bene proviamo a caricare anche la batteria di riserva a parte quella è carica perché è sottocarica va bene va bene va bene ok chiudiamo la live qua ragazzi più o meno ci sono arrivato volevo farlo a due ore ma adesso ho da fare quindi non ve lo posso fare a due ore sono i 12 e 18 mancherebbero 25 minuti a due ore e è stabile e è stabile così forse leggera salita magari magari sale ancora un pochettino eccolo qua questo 4 minuti si sta preparando l'ultima lettura vediamo se pure questo ci ha già anticipato 86 se arrivo 86 vabbè ma guarda più o meno più o meno è quello stabile così incredibile colazione questo video proprio a promemoria scherzo